Ehi la ciurma! Io sono Mazzetest e benvenuti in questo nuovissimo video! Oggi vi parlerò di due cose di cui dovevo assolutamente parlarvi, era un po' che ci pensavo e quindi eccoci qui! Quindi oggi faremo un piccolo tour su un mondo in creativa per vedere i cambiamenti che sono stati fatti nella versione 0.4.11 che è stata rilasciata, ricordo, il 24 dicembre del 2014, quindi sono un po' in ritardo e sulla 0.4.12 che in realtà ha aggiunto un po' meno ed è stata rilasciata il 18 febbraio, quindi qualche giorno fa Adesso sto giocando su 0.4.12 come potete vedere da in alto a sinistra e vi mostrerò i cambiamenti un po' più significativi Molti sono stati cambiamenti soprattutto per il bug fixing e per l'implementazione delle mod ma quelle sono delle cose che non competono noi semplici giocatori, quindi non ne parlerò o magari parlerò di poche cose riguardo a quello Allora, innanzitutto parto da due cose... cioè no, da una cosa molto simpatica che ho scoperto semplicemente dal changelog di cui non mi ero accorto, ed è quello che viene detto qua come Added Inventory Right Click Drag & Drop cioè dovrebbe essere il trascinamento tenendo premuto il tasto destro cosa che se provate a vedere così funziona, ma solo dopo che avete piaciuto il primo, almeno a me da questo bug nel senso che se per caso provo a farlo adesso di nuovo, così non sta succedendo niente se invece mollo e poi lo faccio di nuovo, funziona Non ho capito per quale strana mia ragione, però è una gran comodità e seppur debba essere fixata questa cosa, a mio parere fatemi sapere poi se anche voi avete riscontrato questo errore è una cosa davvero utile, perché su Minecraft c'è e io la uso praticamente sempre, tutte le volte che mi è possibile soprattutto per dei crafting che richiedono molte volte lo stesso oggetto come non lo so, io adesso penso a oggetti della tecnica che hanno più volte lo stesso oggetto come per esempio la Raw Plastic che ha bisogno di 6 foglie così è molto più semplice da posizionarla, insomma e diminuisce il numero di click e quindi aumenta la vita del nostro mouse alcuni cambiamenti visuali che sono poco influenti, diciamo, sul gameplay sono il fatto che è stato ridotto il tempo dello schermo rosso quando si riceve del danno ma non è niente di che un'altra cosa che però non vi farò vedere in questo momento è il fatto che nel menu, prima dell'inizio del gioco, si può scegliere il tipo di rendering grafico cioè per esempio se usare le DirectX o usare OpenGL o altre opzioni altre cose ah, è stato aggiunto il cambiamento dei comandi direttamente dal gioco che è molto intuitivo, molto comodo e devo dire, yeah! è una cosa straepica questo parlando sempre di 0.4.11 è stato migliorato leggermente l'illuminazione del blocco che si ha in mano sì, per alcune cose è ancora un po' bugato tipo qua, per il legno forse, per la texture del legno però c'è stato questo miglioramento e altre due cose molto semplici il fatto che gli oggetti droppati siano leggermente più grandi e girino più in fretta cosa che si può discretamente notare a occhio nudo ma non cambia chissà che cosa è il fatto che in terza persona la distanza è leggermente aumentata la distanza dell'osservatore, diciamo, ipotetico che sta osservando il nostro personaggio poi ci sono build system changes logistical changes che non ci interessano particolarmente neanche over changes non è che sia un granché vabbè, qua dice che sono state aggiunte per esempio altre lingue l'ho perso ah sì, è stato aggiunto l'indonesiano dal 0.4.11 performance bug fixes ok modding relating changes altre tantissime cose passiamo direttamente nella game changes che è una cosa molto importante allora, sotto il gameplay abbiamo questo qua le trapdoor ora sono scalabili come le ladder quindi per esempio se uno vuole mettere una trapdoor alla fine di una ladder una cosa che viene molto utilizzata è strautile perché adesso si può salire sulla trapdoor mentre invece come potete vedere se sono senza così non sono un'altezza differente quindi grande comodità poi c'è stato un cambiamento interessantissimo per le porte che le porte di ogni tipo possono essere cioè di ogni tipo di quelle di legno o quelle di ferro possono essere formate doppie cioè nel senso se viene posizionata una là se ne mette una accanto viene la doppia porta l'unica cosa strana è che boh io ho questo bug strano qua posizionando le porte in questo mondo qua e non so per quale strana ragione c'è la texture un po' bugata e boh ho notato invece che se per caso viene posizionata a sinistra e poi dopo a destra il gioco non riconosce la vicinanza e quindi non si forma la doppia porta mentre così si alla creative sono stati aggiunti i bucket già pieni come potete vedere anche di corium i dungeon vengono generati di default dalla generazione della mappa e tra l'altro è stato migliorato questo perché i dungeon ora spawnano solo sotto il livello del terreno e non più sopra si padroneggiano meglio le barche sono stati aggiunti gli alberi di pino e con i relativi legno e sapling ha un cambiamento straepico è il fatto che ora finalmente le foglie che vengono piezzate dal giocatore non despownano oh alleluia perché fino a parecchio tempo fa se erano lontane da un pezzo di legno despownavano e non era una cosa molto comoda la fornace ha subito un piccolo cambiamento per quanto riguarda l'inventario perché adesso si vede in modo leggermente diverso e sono stati aggiunti i brick di ossidiana che si formano con 4 blocchi di ossidiana che vi mostro subito sono questi qua non lo so perché c'è questo stupido bug non so se lo vedete anche voi però sono dei blocchi molto carini molto neri ma da questa sfumatura azzurrogno che potrebbero essere comodi certo avendo una grande fonte di lava perché l'ossidiana richiede lava e non è un blocco molto facile insomma da trovare e sono stati cambiati un po' i comandi del cacciavite è stata cambiata la texture dei lingotti da quello che dice qua io ancora non l'ho controllata questa cosa si boh non lo so ma a parte che qua sono con la technique quindi potrebbe essere una questione solo mia diciamo sono stati fatti dei cambiamenti alla tnt al disegno del fuoco ci sono state delle nuove texture per la fornace e per la cobblestone ma questa è la texture della technique quindi gg però posso farvi vedere forse quella del cobblestone cobblestone eccola qua si si è leggermente cambiata tra l'altro ce l'avevo già nell'inventario lol è stata aggiunta una texture per l'erba di cui io assolutamente non me ne sono accolto cioè nel senso mi sembra uguale boh nuove texture per le mele le ceste la dirt la desert stone no i desert stone brick la barra della vita e le palle di neve nuove texture per i minerali per le bandiere le bandiere vessels ah si perché ci possono fare con i die aspetta dovrebbero esserci vessel ah no cos'è vessel no boh questo dovrò informarmi nuove texture per i fiori di cui ci siamo già accorti anche nel mondo del mine testita se per caso avesse seguito la serie nuove texture per le porte di cui non me ne sono accorto assolutamente le texture del suolo coltivato sono state cambiate e infatti si nota l'avevo già notato anche nel mondo normale e niente vabbè è stato aggiunto un po' di bianco nel nel come si chiama nell'animazione quando viene distrutto un oggetto che però qua in creative non è che si vabbè è stato aggiunto un po' di bianco non è che cambi chissà che cosa e sign un piccolo cambiamento sui sign che dà un po' più di tridimensionalità in più di è assolutamente me gusta allora è stato fixato un sacco di bug fix che insomma se volete potete andare a controllare ma di cui non parlerò perché non sono delle cose aggiunte insomma sotto i miscellane usi invece niente di particolare insomma passiamo ora ai cambiamenti più interessanti invece della 0.4.12 che appunto è stata rilasciata da poco quindi è il nuovo nuovissimo fino a questi qua che vi ho appena parlato di alcuni ce ne siamo già accorti nel mondo perché time 6.000 perché appunto la versione l'avevo aggiornata alla 0.4.11 senza fare nessun nessun video sull'update insomma perché ha avuto poco tempo diciamo in questo periodo allora un cambiamento molto interessante della 0.4.12 è il fatto che anche la mossy cobblestone diventa stone cuocendola quindi questo potrebbe dare un utilizzo oltre che decorativo alla mossy cobblestone che si trova nei dungeon anche se non lo trovo un cambiamento chissà che cosa è stato aggiunto il blocco formato dal grano da 9 pezzi di grano che adesso andremo a vedere tra l'altro è stata cambiata la texture al grano si un'altra cosa dice che è stato cambiato un sacco di texture e ah straw 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 vediamo come lucca bene si abbastanza carino si avrebbero potuto forse renderla un po' meglio ma gg mi piace è craftabile si no perché ne da solo 3 ah perché me ne da 3 ok cioè con 9 di grano mi da 3 di quelle è stata cambiata anche la texture della farina tra l'altro quella del grano mi piace un sacco come texture ma davvero un sacco cioè proprio e tra l'altro è cambiata anche la texture leggermente della pianta ed è cambiata molto la texture della pianta del cotone che vedremo se per caso cresce qua invece le stringhe non sono cambiate e 9 stringhe si forma sempre il no la lana si forma con 4 stringhe vabbè e sono stati aggiunti oltre a in seguito alla 0.4.11 dove è stato aggiunto l'utilizzo dell'ossidiana per farne i brick che abbiamo potuto vedere un attimo fa ah ecco ce l'ho ancora ora si possono craftare sia con l'ossidiana che con gli obsidian brick sia le scale che gli slab quindi altri fattori decorativi altri utilizzi dell'ossidiana che sono altrimenti non era molto utilizzabile anche come il blocco decorativo perché era abbastanza fine a se stessa e devo dire che mi piacciono abbastanza sono abbastanza carini e potrebbero risultare utili per qualche costruzione mi ricordano tanto gli enderman si mi ricordano tanto gli enderman però mi piacciono cioè si un blocco decorativo nel vanilla che è carino porca miseria ci sono dei cambiamenti epici questo succede anche con l'ossidiana normale proviamo subito con l'ossidiana normale questo obsidian si allora prendiamo perché ho chiuso non lo so gli obsidian stir e obsidian slab che pronuncia inglese proprio straswag che effettivamente cambia poco ci sono solo quelle reghette in meno però si carino devo dire che questo guadagna poco è molto meglio quello parità di prezzo insomma si mi piace e sono state cambiate alcune texture di cui appunto vi parlavo prima io ho scoperto quelle relative appunto a cotone guardate che è diversa la piantina adesso magari crescerà e al grano ma altre texture non ho ancora scoperto probabilmente le troveremo nel mondo se qualcuno di voi le ha scoperte me lo scrive nei commenti e l'inventario delle ossa è stato reso più carino però per questo dovrei uscire dal mondo in creativa e farmi molto danno per farvelo vedere quindi credo che magari sarà una cosa che potremo sperimentare nel prossimo ma in testita magari ricordatemelo potremo fare una bella avventura verso la morte e oltre detto questo io vi ringrazio per la visione spero che il video vi sia piaciuto perché insomma a me questi cambiamenti piacciono scrivetemi se per caso nei commenti oltre ai cambiamenti di texture che avete trovato il cambiamento che secondo voi è stato più significativo per la 0.4.11 e per la 0.4.12 e noi ci vediamo vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se per caso non lo avete già fatto un saluto a tutti dal vostro mazzetess ciao 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 ciao